Proseguono per tutta l'estate gli appuntamenti dell'assegna teatrale Voci dei Luoghi, Guerra e Resistenza 1940-1945, Letture e Musica 2013, promosso dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della Provincia di Torino e L'Uncem. Le prossime performance di luglio sono fissate per domenica 21 a Davigliana e sabato 27 ad Alice Superiore in Val Chiusella, con lo spettacolo Non Dimenticare dell'Associazione Culturale Tecne. Venerdì 26 a Monastero Bormida, l'Accademia dei Folli propone invece lo spettacolo Io Sono Partigiana.